Eccomi ragazzi, sono Gabri Costa. Ascoltatemi, in questo Capcom Fighting Collection recensirò la galleria di Darkstalkers The Night Warriors, il videogioo picchiatura incontri del 1994. Iniziamo. Questo è l'artwork principale, dove ci sono tutti i personaggi e già qui iniziamo col botto. Ma c'è l'artwork del personaggio e io ve li devo spiegare, ve li devo descrivere tutti i personaggi di Darkstalkers. Scominciamo. Dimitri Maximoff è il vampiro della Romania. John Talbine è un licantropo dall'Inghilterra. Lord Raptor è un ghoul dall'Inghilterra. Viktor von Gerdeneim è un mostro di Frankenstein dalla Germania. Morrigan Ainsland è una succube dalla Scozia. Anacaris è una mummia dall'Egitto. La donna gatto Felicia è un bakkeneko dagli Stati Uniti d'America. Bishamon è un tsukumogami dal Giappone. Rikuo è un signore delle creature acquatiche dal Brasile. E poi c'è Sasquatch, il Bigfoot dal Canada. Witt Zill è un robot Dogu dal Messio. E questo invece è Pyron, l'alieno dal corpo incandescente nativo del pianeta Hellstorm. Questo è l'opuscolo promozionale. Molto bello. Bello l'opuscolo promozionale, mi piace. E poi alcuni personaggi di Darkstalkers provengono da diversi paesi del mondo. Questa è la carta di istruzioni. Poi ci sono le caratteristiche del personaggio. A me piace John Talbine, il licantropo. Perché voi lo sapete, io ho una fissazione per questi lupi. Questa è l'animazione del personaggio. Concept del personaggio. Insomma, ci sono tutte le bellissime immagini in questa bella galleria. Mi piace, davvero. Quanto dovrei parlare per spiegarvela tutta. Godiamocela. Ogni tanto bisogna capire il nome e il titolo. Niente, è finita. Qui si ripete da capo. E io vi devo salutare. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Se il video vi è piaciuto, condividetelo. Ricordatevi che vi aspettano altri video e altre gallerie in questo Capcom Fighting Collection. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.